Di fuori è un po' più difficile parlare di certi temi, vedo che se non si trattano granché alcune questioni un po' spinosette, fuori si parla molto di altro, anche per addeviare l'attenzione, se poi qualcuno prova a trattare certi temi, insomma non è che vada benissimo, per esempio ieri abbiamo buttato lì due cosine sull'auto elettrica, abbiamo visto che le vendite non sono granché, sono arrivati tanti messaggi su questo tema, ma ecco che giusto appunto l'Europa ci ha regalato, ci ha fatto un altro bel regalo, visto che la gente non compra le auto elettriche perché costano troppo, io so che adesso mi iscrivete, mi dite, ma non è vero, ci sono anche modelli che costano poco, io vi sto riportando degli studi, dei sondaggi fatti fra la popolazione europea che dicono che il problema è il costo rispetto allo stesso modello che evidentemente ancora non ci siamo con la tecnologia, forse la gente non è preparata, a prescindere da tutto, voi mi potete anche dire che ci sono le otte macchine elettriche, non ne dubito, però c'è un problema evidentemente di comunicazione, di passaggio, ci vuole del tempo per favorire questo spostamento, fare tutto in un colpo imponendo alla gente anche delle diseguaglianze, ragazzi non è proprio il massimo, non è una grandissima idea, è qualcosa di vagamente autoritario, ebbene mentre ieri noi iniziavamo parlando delle auto elettriche, di questi dati deludenti sulle vendite, ieri è stata approvata in Europa la normativa sulle case green, un'altra bella cosa simpatica, e quindi evidentemente uno può parlare, caro Francesco, ma per il dissenso non è che ci sia così tanto spazio, comunque c'è un sistema che procede, te tragano nella sua direzione e vabbè che devi fare, ormai abbiamo capito che funziona così, ci sono delle imposizioni che vanno avanti direi per la loro strada e tu puoi lamentarti finché vuoi, ma bisogna fare così, un po' come con le questioni sanitarie. Senti, prima cosa ti voglio chiedere un commento su questa norma europea, sulle case green, perché qui continuiamo con le imposizioni, abbiamo visto ieri che sulle auto elettriche le vendite non vanno poi granché bene, però mi sembra che l'Europa sia intenzionata ad andare dritta per questa strada. Mi sembra che il problema dell'inquinamento, del problema della distruzione dell'ambiente, della natura, che comunque lo sviluppo economico in parte ha prodotto, sia un ottimo esempio di come le oligarchie, perché noi viviamo in un mondo largamente dominato da oligarchie in conflitto tra di loro, vogliano curvare questo bisogno, questa necessità reale a proprio vantaggio. Quindi diciamo che il capitalismo più estremo, ma che forse non si potrebbe neanche chiamare così, cerca di curvare questa necessità a proprio vantaggio, sostanzialmente distruggendo l'economia reale, distruggendo l'economia dei popoli, impoverendo sempre di più i sceti popolari, facendo pagare a loro il costo di questa cosiddetta transizione e facendo su queste politiche cosiddette green pacchi e pacchi di profitti. Quindi credo che noi dovremmo focalizzare meglio qual è la sfida dei nostri tempi, cioè da una parte direi che si potrebbe dire con una battuta è sottrarre da questo potere tutte le giuste battaglie che questo stesso potere si è appropriato, di cui si è appropriato indebitamente. E su questo mi dispiace dirlo, ma l'Europa non fa eccezione, anzi è l'avanguardia direi di queste agende, di questi programmi di trasformazione sociale, antropologica, che da Davos arrivano a tutti i popoli, ma che dovrebbero farci paura, anzi a me fanno proprio paura. Quando io guardo i loro summit, io proprio la brevidisco e ho timore dei loro progetti, perché li abbiamo visti quali sono poi i loro progetti e gli effetti di questi progetti. Sono isolamento, discriminazione, marginalizzazione e omologazione del discorso pubblico, per cui dobbiamo tenere le antenne bene attenti.